Due gol di vantaggio. I diavoli rossi risarciscono la sorpresa del torneo. Un assist per Vrancs. Portogallo-Olanda. Spettacolo e pareggio. La Spagna vince e anche l'Ucraina si qualifica scognamiglio malfitano le partite di oggi dell'europeo. Under 21 il pareggio dura appena 20 e sono i portoghesi a spezzarlo su palla ottimamente lavorata. Da Pedro Neto. Esterno del Wolverhampton. E André Almeida a deviare in porta con precisione. Il pareggio olandese arriva nella ripresa grazie a Brobby. Su sviluppo da corner il centravanti della Ajax è bravo a correggere sotto porta il colpo di testa. Del compagno Burger. Secondo pareggio in due partite per gli Orange. Mentre il Portogallo è già alle strette per qualificarsi dovrà battere martedì il Belgio nella speranza che l'Olanda non superi la Georgia. All'intervallo la partita sembrava nettamente favore de Ketelaere e compagni che si erano portati in doppio vantaggio grazie a due colpi testa il primo de Kuiper su assist un altro milanista. Vrancs. All'esordio Europa campionato. Anche il belga venti di Ramazzani per via aerea. Su imbeccata dello stesso de Kuiper. Il vento però cambia completamente all'intervallo. Con le tre sostituzioni del tecnico georgiano Svanazze dalla panchina entra anche Zita i sciviliche. Dopo due assist contro il Portogallo questa volta fa da solo e accorcia con un bel sinistro dal. Limite. Sul 21. Belgio spreca proprio con de Ketelaere dopo triangolo con Openda una ghiotta occasione per Trisal. 75. Non trovando gol da posizione favorevole milanista gioca in una posizione insolita. Da centrocampista in 4 gradi 33. Non disdegnando lavoro sporco. E la Georgia. Spinta dai tifosi. Pareggia Olo 87 con un colpo di testa da calcio d'angolo di Gugliashvili. 4 punti in due partite alla prima partecipazione a un europeo under 21. La Georgia anche. Senza Quareschilia è ora padrona del proprio destino in termini di qualificazione. L'Ucraina vola a punteggio pieno e si qualifica ai quarti di finale. Questa volta fortunata a capitalizzare l autogol di Deacon poco prima del 90. Dal girone B usciranno le avversarie dei quarti di finale del girone di qualificazione dell'Italia. Il successo di Rogeta contro la Croazia. Infatti. Qualifica entrambe le nazionali alla fase successiva. Eliminando sia i croati che la Romania. Una delle due nazioni ospitanti dell'europeo under 21. Con una partita ancora da giocare. Dopo il calcio d'inizio di Abel Ruiz. Poi tanto vivaio che tiene pericolosamente in vita alla Croazia fino alla fine del match. Bravi entrambi i portieri. Tenas e Kotarski. Che con i loro interventi hanno contribuito a tenere basso il punteggio. Denia cambia un solo giocatore dalla prima uscita. Con Victor Gomez che prende il posto di Martinet come terzino destro. Passano solo 21 secondi e la Spagna ha già sbloccato il match. Miranda verticalizza perfettamente per Sergio Gomez. Che tocca al centro dove c'è Abel Ruiz. La conclusione sul primo palo che brucia Kotarski è impeccabile. Lini.